Tre auto sono andate a fuoco nella notte nel cortile di uno stabile in via Raffaele Lettini nei pressi di piazza albanese. Il fuoco si è propagato da una Ford Fusion di proprietà di un agente della polizia locale. Le fiamme che hanno quasi completamente divorato quest'auto si sono a loro volta propagate a quelle adiacenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza. A momento si ignorano le cause del rogo avvenuto senza che la maggior parte dei condomini sia delle due palazzine interessate sia delle altre del circondario si siano accorti di nulla. L'allarme è arrivato grazie a qualcuno che, forse ancora sveglio, ha udito il rumore dello scoppio dei primi pneumatici. Non si registrano danni particolari alle strutture dello stabile, il cui impianto elettrico ha continuato regolarmente a funzionare, sia per quanto riguarda l'illuminazione, sia per quello che concerne l'alimentazione di citofoni e cancello elettrico. Mentre gli agenti procedevano a tutti gli accertamenti del caso, non potendo peraltro contare su eventuali immagini di telecamere esterne totalmente assenti nella zona, gli operatori hanno domato le fiamme in pochi minuti prima di lasciare il luogo intorno alle due.